Sì, allora come mi ha già introdotto Sebastiano, mi chiamo Elias Srebrenic, che è un ottimo nome per testare il supporto UTF delle vostre applicazioni. Sono uno sviluppatore embedded, AM4 che è un'azienda di Trieste, ho fondato anche MeetLab, sono tra i soci fondatori. Sono dall'inizio presidente, nonché sistemista, perché si sa che per divertimento si cerca di evitare quello che si fa per lavoro. Ecco, stasera vi parlerò di Free IPA, IPA è un acronimo che oltre a indicare il tipo di birra che abbiamo all'ESC, sta per Identity Policy e Audit, quindi Identity, autentica un utente o un servizio a un computer o altri servizi, Policy, quindi permette di definire che utente e che servizio ha accesso a che computer e che servizio. E Audit, che dovrebbe permettere di avere l'elenco di chi accede su cosa e si lega un po' al talk che c'è stato un po' prima, però questa parte qui non è ancora stata integrata all'interno di Free IPA, è l'unico supporto che hai a Audit. Quindi Free IPA non è un nuovo software, ma in verità sono tanti software già ben noti, impacchettati con un bel fiocchettino sopra. Quindi si parla di LDAP, che non è il solito open LDAP, ma è il 386DS che è Red Hat. C'è Kerberos, quindi il Meet Kerberos, DNS server che è il caro vecchio bind, e c'è un sistema PKI, quindi per gestione di certificati, di una certificate authority, che è Dogtag, che è l'unico software Java qua. La cosa carina è che tutto questo, appunto dicevo, il fiocchetto è che tutto quanto è collegato a una web interface che è, devo dire, piuttosto utilizzabile, con API, quindi tu poi volendo puoi anche farti la tua applicazione che si appoggia alle API di Free IPA. Ha un'interfaccia da riga di comando che è molto potente, così potente che puoi fare tante cose che non riesci a fare direttamente dal web. È scritto in Python, che è un buon plus, perché nel nostro hackerspace di solito tante cose le scriviamo direttamente in Python, quindi lo conosciamo più o meno tutti. È facilmente estensibile, ovviamente di nuovo per Python. Puoi farti, per esempio, il tuo modulo per le tue object classi nelle DAP, quindi per supportare parametri extra, e uno di quelli che ha fatto questa cosa qui è GNOME, se non erro, loro usano anche questo sistema di autenticazione centralizzata. Quindi, la prima parte è che l'identity ci fornisce l'anagrafica degli utenti, quindi tutti i metadati di un utente, shell home directory, usa POSIX account per quelli che conoscono il DAP, ti permettono di mettere chiave SSH, numeri di telefono e tutto quanto. La cosa carina è che supporta anche il second factor authentication, che puoi mettere come opzionale o mandatory, quindi obbligatorio, già a livello di Kerberos e tutti i servizi di autenticazione. Supporta sia TOTP sia COTP, sono attivabili self-service, quindi banalmente con un'applicazione che ti fa TOTP dal cellulare, ti mostra dal web, ti mostra la QR code, se ben ricordo ti mostra la QR code tipo in AshiArt anche dalla riga di comando, ma non vorrei ricordarmi male. E quindi tu la scannerizzi e sei a posto. Supporta gruppi di utenti, tra l'altro una cosa carina, che supporta dei gruppi, sono i gruppi automatici, quindi tu se vuoi puoi dargli una regex in base a vari campi che puoi mettere. E quindi lui quando crei un nuovo utente, quando lo modifichi, te lo aggiunge automaticamente ad alcuni gruppi. Gestisci ovviamente gli host che fanno parte dell'identity, quindi tu puoi gestire host enrolled oppure no. Enrolled vuol dire semplicemente che sono noti a FreeIPA, quindi sono stati configurati con FreeIPA, quindi hanno la chiave Kerberos, hanno l'autenticazione centralizzata. E quant'altro, però può supportare anche host normali, in tal caso supporta per esempio la firma dei certificati e la risoluzione del DNS, quindi tu li metti l'identityp e aggiunge il DNS. Ah sì, oltre a questo supporta anche l'SSH host keys, quindi tu praticamente puoi dal tuo computer, se è ben configurato, invece di farti chiedere al primo login vuoi accettare la fingerprint del server, bla bla bla, te la verifica direttamente sul DNS, e quindi questo ti elimina, sei già sicuro che la fingerprint è quella giusta e se sei sbagliata qualcuno sta facendo qualcosa di male. E quindi sì, ogni host può avere il suo certificato, ma anche ogni servizio può avere il suo certificato, quindi il modello è pressa poco questo, che tu per ogni host puoi avere più servizi, che può essere banale HTTP fino a Kerberos o a SSH, a ogni servizio possono essere legate regole e certificati in questo caso. Policy, che sono appunto le regole, quella base è HBAC, quindi host based authentication control, quindi specifica chi può accedere a che servizio via che host, diciamo. Quindi qui posso specificare in maniera abbastanza granulare, posso partire da il singolo utente può accedere al singolo host via il singolo servizio, che è per esempio una cosa che usiamo noi per l'autenticazione via VPN, per esempio noi abbiamo la policy che il gruppo utenti, il gruppo members, possono accedere via il server openvpn al servizio openvpn. Posso avere gruppi appunto di utenti come in questo caso, gruppi di host anche, quindi per esempio noi abbiamo di nuovo la rule, tutti gli utenti members possono accedere a tutti i gruppi, tutti i computer nel gruppo macchine per utenti, diciamo, ce ne sono un paio, e via che servizio, quindi via PAM per il login normale. Posso avere le sudo rule centralizzate, quindi io posso decidere che gruppo di utenti o che utente può eseguire sudo, anche con che comandi, quindi tu hai la full spec, diciamo, di sudo, di v-sudo, dei sudoers, diciamo, di etc sudoers, direttamente sia se vuoi da riga di comando, o se no c'è anche la web UI dove puoi definire i vari comandi, i vari gruppi, eccetera, eccetera. Tutto questo è sincronizzato da un demone che si chiama SSSD, che adesso in questo momento non mi viene sull'acronimo, ma dovrebbe essere simple... Non mi viene in mente, ma se mi viene in mente ve lo dico. E un'altra cosa che è anche molto utile, hai le password policies, quindi in base a che gruppo appartiene l'utente, puoi definire più policy per quanto riguarda la complessità, la lunghezza, i fallimenti costantiti, è il periodo di lockout che poi imponi, diciamo, in caso di password errate. I servizi inclusi dentro Fripa, oltre a questi che abbiamo già visto, quindi quelli di base di Kerberos, eccetera, eccetera, c'hai gli automount centralizzati, quindi tu gestisci gli autofs centralizzati, il tipico caso di questa cosa qui è monti automaticamente le home directory degli utenti via NFS, quindi a login loro usano Kerberos per collegarsi al server NFS e si monta sulla directory da remoto direttamente, che è una cosa piuttosto comoda. Il DNS, quindi a tutti gli effetti hai una GUI per bind, supporta zone multiple forwarding, supporta anche, una cosa carina, supporta aggiornamento dinamico dell'entry, quindi se io ho un computer, un host che ha DHCP ed è inrollato con Fripa, tu puoi abilitare i DNS updates e quindi lui usa la sua chiave Kerberos per comunicare con Bind e fargli l'aggiornamento dell'indirizzo IP ogni volta che si tira su. Abbiamo poi tutta la gestione di certificate authority che è abbastanza complessa come deve essere, quindi posso avere più certificate authorities, posso avere sub CA, posso avere policy di auto renew, questa è una cosa molto carina, nel senso se io ho un host che è enrolled, io posso generare il certificato con un comando IPA che si appoggia a un demone e quindi praticamente un po' di tempo prima della scadenza del certificato lui parla direttamente con Fripa e si richiede un altro certificato dello stesso tipo, diciamo, lo rinnova. Tra l'altro è così comodo che tu da ricco di comando puoi specificargli che comando eseguire prima e dopo aver caricato un nuovo certificato quindi a tutti gli effetti è un po' come Let's Encrypt. Il modulo KRA è anche interessante, è relativamente nuovo quindi l'interfaccia web non è proprio il massimo ed è praticamente a tutti gli effetti un password manager condiviso con policy piuttosto granulari a cui riesce ad accedere a segreti. E anche questo è abbastanza complesso perché supporta sia cifrature asimmetriche sia simmetriche con pressure key e questo, diciamo, è stata una delle ultime aggiunte alla 4.7 se non erro. Quindi, cosa si può fare con Fripa? Moltissime cose. Al MeetLab, che è l'hackerspace dove abbiamo montato questa cosa qui, lo usiamo per Radios, quindi WPA2 Enterprise, è il DAP-OUT con tutta una serie di servizi, Netbox è uno di questi, autenticazione su tutti i computer che sono di utilizzo comune, autenticazione attraverso la VPN esterna, cartelle Home Directory e poi lo usiamo anche per SAML. Non so se qualcuno di voi conosce già SAML, se volete alzare la mano. Mai sentito parlare di SAML? Bene, allora le prossime slide non sono proprio buttate via. Un'altra cosa molto interessante è che in futuro stiamo contando di fare l'accesso fisico attraverso questa cosa qua, quindi attraverso cifratura asimmetrica con un certificato generato da CA me lo carico sulla mia tessera NFC e verifico direttamente con FreeIPA e se sono abilitato accedo al posto. Quindi SAML sta per Security Assertion Markup Language ed è utilizzato esclusivamente per Single Sign-On. Di solito è formato da almeno due componenti, una delle quali è l'Identity Provider che è quello che si occupa di autenticare l'utente e il servizio e poi ci sono dei Service Providers che possono essere da 1 a N e sono quelli che effettivamente fanno un servizio utile per l'utente al quale l'utente vuole accedere. Il dialogo funziona più o meno così, l'User Agent richiede la risorsa al Service Provider, il Service Provider gli dice hai bisogno di un'utilizzazione, ti faccio redirect all'IDP, io faccio la richiesta ovviamente all'Identity Provider, mi identifica e qui l'identificazione può avvenire attraverso molte cose diverse, per esempio la base è username e password ovviamente, però può anche essere via Kerberos o può essere username e password con second factor authentication. Poi l'Identity Provider mi ritorna un oggetto che in sostanza è un XML con tutta la risposta SAML con il fatto se sono abilitato o meno e anche con tutti i miei metadati che servono per il login, metadati che vengono richiesti diciamo dal Service Provider, quindi le cose più banali sono il nome utente, la mail e i gruppi per esempio ai quali appartiene e quindi con questa cosa qua il Service Provider mi autentica verifica, ovviamente c'è un assignatore da verificare e se tutto va bene mi dà accesso alla risorsa. Questa funzionità di SAML non fa parte della core di FreeIPA ma è un altro software che si chiama Ypsilon che anche questo è scritto in Python utilizza sempre il back-end SSSD e supporta appunto l'applicazione sia via password form sia via Kerberos e in sostanza questa è l'interfaccia di configurazione ho i miei vari login plug-ins info identity questo lo vediamo tra pochissimo ma il problema è che da bravi nerd noi vogliamo cercare di minimizzare l'interazione con gli utenti anche nel caso dell'hackerspace e quindi abbiamo bisogno di un modo per attivare i nuovi account in maniera relativamente facile e relativamente sicura e qui è saltato fuori un progetto che si chiama Moki ed è in sostanza un pannello self-service per FreeIPA utilizzato da se non erro l'università di qualche parte in California credo e supporta sia le attivazioni di nuovi account che tra l'altro funziona in maniera diversa una volta era più carina perché io da riga di comando potevo attivare il nuovo account lui mandava la sua mail mandava la mail di attivazione ah finita la batteria ah sassa bene sì in sostanza mandava la mail di attivazione quindi all'utente che poteva crearsi la password e andare via adesso questa funzionità qua l'hanno tolta non so bene perché supportano la registrazione diretta sul portale non serve solo per creare i primi utenti ma anche funziona da pannello self-service perché molte volte il pannello normale di Fripa non è particolarmente user-friendly quindi da qui puoi gestire i tuoi token OTP puoi gestire le tue chiavi SSH e hai anche i template personalizzabili quindi puoi farlo diciamo mostrare come voi tu e come bonus diciamo puoi anche mettergli una chiave e quindi puoi anche inviare le mail firmate in GPG e adesso se il dio delle demo sorriderà vi mostrerò ecco questo è quanto quello che diciamo si vede dall'interfaccia principale quindi qua vedo gli utenti attivi io adesso ho attivato un filtro per evitare di leakare troppe informazioni e vedete solo il mio account e questa è la visione da diciamo da amministratore quindi questi sono tutti i vari campi non so se si riesce a vedere particolarmente bene mi servono due braccia eccoci quindi diciamo tutti i metadati di base che uno può inserire nelle DAP chiavi SSH certificati qui posso selezionare ecco se diciamo se io lo metto come obbligatorio questo qua bisogna fare per forza login via il second factor authentication telefono indirizzo e quant'altro poi hosts quindi questi sono tutti l'elenco di tutti gli host apriamone uno a caso ok metadati descrizione classe qui sono più o meno cose che puoi scrivere puoi gestirle tu diciamo in base alle policy interne aggiungere puoi aggiungere chiavi SSH il make address e se adesso prendiamo un host enrolled questo qua quindi se è enrolled qua vedete c'è la Kerberos key present quindi questo qua è diciamo può può fare tutte le cose di rinnovare i certificati e quant'altro servizi qui in sostanza è molto simile a quello che abbiamo visto prima quindi questo sono tutti i servizi http a enterprise e quindi questo è abbastanza simile se ci sono certificati presenti li vedo qua posso riscaricarmeli ovviamente solo il certificato non la chiave privata gruppi come si diceva e questi sono invece le regole per esempio le regole eccoci qua questo è un esempio quindi tutte le macchine che hanno l'fqdn che finisce per o5 hq mit la borg vanno nel gruppo delle macchine nell'ufficio 5 per esempio la parte più interessante quindi sono le rules con quello che si diceva prima members alla openvpn quindi abbastanza diretta come interfaccia who user groups members accessing vpn via service openvpn simpatico semplice non si può sbagliare sudo rules questa è diciamo la più semplice in sostanza aggranta gli amministratori il dominio su tutte le macchine ovviamente anche qua si integra su selinux le password policies di cui si diceva prima anche queste sono abbastanza dirette quindi per esempio qui la cosa carina è il discorso della priority si riesce a vedere sì quindi priority in sostanza io posso ordinare le mie password policies quindi in base a in base a cosa ma se c'è un utente che appartenebbe a due password policies vince quella con la priority più alta più bassa scusate le cose che posso definire qua sono le cose che posso definire nella lifetime massima quindi forzare a cambiare la password min lifetime questo è per evitare molti cambi di password uno dietro l'altro questo è per evitare le ultime x password per impedire che l'utente diciamo abbia due password e gli scambi costantemente character classico limita la complessità della password min length max failures failure reset intervalle lockdown ok qua sono gli otp se qualcuno registra un token una one time password se la vede qui poi questo è l'automounting come vi dicevo questo c'è il formato diretto diciamo della ecco quindi questo è quello che uno scriverebbe nel suo nel suo file autofs questo ha diciamo asterisco quindi questo monta tutte le password tutte le cartelle dentro la home con questo con questi argomenti qua questo sec kb5p mi definisce il login via Kerberos al servizio nfs queste invece sono le zone dns quindi pannello normale queste sono tutte le entry ecco una cosa che noterete se avrete se installerete Fripa sono veramente tante entry srv per quanto riguarda l'autoconfigurazione di Fripa e poi bonus shot volevo mostrarvi ancora una cosa allora c'è una vediamo come siamo un'altra un'altra bonus un'altra bonus slide che me l'ho preparato è questa Fripa supporta la replicazione automatica quindi io posso installarmi n repliche di Fripa si sincronizzano tra di loro con LDAPS quindi diciamo in maniera cifrata infatti loro diciamo già all'installazione ti dicono consigliamo di avere almeno due repliche quindi per fare diciamo sia da failover sia da sincronizzazione posso avere il sistema supporta più repliche in più posizioni geografiche che sono le IPA location questo perché per cercare di ottimizzare e pilotare un po' ho i client verso il dominio diciamo il server più vicino quindi se io ho un'azienda qui e un'azienda a Milano sono collegato attraverso una VPN per essere tutto nella stessa nella stessa rete ho due repliche qua due repliche di là preferisco che i client di Trieste parlino con il server che è a Trieste non con il server che è a Milano quindi questa cosa qua viene fatta via DNS quindi impostando i record DNS corretti lui preferisce quella locale a quella remota eccoci qua giusto per capire ti fa anche tutte queste bellissime cose le animazioncine in javascript queste sono le replication agreement in sostanza ogni questa freccina la freccina la freccina arancione mi dice che c'è una c'è una replicazione del DNS la replicina blu mi dice che c'è una replicazione di certifichi delle certifichi ed authority ok come dicevo le app sono molto carine sono documentate e disponibili direttamente nel browser quindi io per ogni per ogni chiave posso vedere tutte le opzioni che posso mettergli eccetera eccetera e questo è più o meno una carrellata completa grazie se qualcuno ha qualche domanda prego non so se c'è qualcuno col microfono arriva 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 ciao prima stavi parlando del CRA quindi la condivisione delle password e via dicendo volevo un attimo capire se l'avevate già testato e fin dove puoi andare a limitare l'accesso a una determinata password a gruppi utenti o a utenti e poi ti chiedo di seguito te l'attacco subito ho visto su lost and rolled che hai mostrato prima che c'era un'opzione one time password se me la accenni e me la spieghi allora per quanto riguarda il KRA non l'abbiamo testato veramente perché da una verifica veloce sembrava abbastanza complesso e ha detto per adesso non ci serve così urgentemente perché abbiamo un altro sistema per quanto riguarda il NOC del MeetLab che tra l'altro vi consiglio si chiama GoPass è un lo conosci ecco sì è abbastanza carino diciamo per condividere abbastanza semplice quindi sì non l'abbiamo visto più di tanto il problema più grosso in verità è che che è un po' una limitazione che tu devi essere funziona solo su host enrolled cioè devi avere IPA installato sul tuo pc devi avere il ticket Kerberos per IPA quindi per esempio su OSX non gira benissimo il client di IPA quindi quello era già una limitazione in sé però da quanto avevo visto puoi limitare abbastanza cioè puoi avere un controllo per gruppi singoli anche per utenti se non ero cioè ognuno può avere una sua vault poi c'è il tipo di vault che può essere simmetrica e poi c'è gli ACL per la vault però sì sto dicendo quando l'avevo visto non so se c'erano non mi pare ci fossero sviluppi ulteriori mentre la OTP che tu dici serve per fare l'enrollment allora praticamente tu l'enrollment di nuovi host puoi farli sia direttamente attraverso l'autoconfigurazione DNS e tu ti autentichi diciamo lui si prende il ticket tu metti la tua password o almeno una password di un utente che ha i permessi per aggiungere host e lui fa l'autenticazione oppure l'altra alternativa che ti evita questa devo riscrivere la password e tu generi una one time password di là quindi aggiungi prima l'host generi una one time password e poi la copi sul sull'host che vuoi aggiungere e gli dici one time password e poi lui usa quella invece di fare l'autenticazione col tuo username password è forse un po' più sicuro ecco per evitare di autenticarsi altre domande? ci sono domande? nessuna? bene allora un applauso per Aliasch grazie grazie leasch Grazie.